I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nell'ambito della più generale azione di presidio nella vigilanza del settore delle prestazioni sociali agevolate, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, hanno approfondito le posizioni di 173 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, in gran parte extracomunitari, domiciliati principalmente nell'area tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando. L'indagine condotta dal gruppo di Gioia Tauro ha consentito di individuare 164 soggetti di nazionalità straniera che, attestando falsamente di risiedere nel territorio nazionale da almeno 10 anni, avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Attraverso le false attestazioni, i soggetti fraudolentemente ammessi al beneficio hanno indebitamente percepito spettanze per oltre 263 mila euro. L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza sulla vasta platea di richiedenti ha permesso di interrompere le procedure di assegnazione nel contributo proprio per oltre un milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando contestualmente alla sede IMSS completamente territorialmente ai fini della revoca del beneficio.